Questa è una storia della mia infanzia. Quando ero piccolo vivevo in affitto in una casa a due piani. Entrambi i miei genitori lavoravano, quindi ero spesso da solo a casa quando tornavo da scuola. Un tardo pomeriggio tornai a casa e dentro era ancora tutto buio. Mi mise a chiamare mamma e senti una voce dal piano di sopra che rispondeva sì. Chiamai ancora e ricevetti la stessa risposta. Sì. Pensai che mi stesse chiamando e cominciai a salire le scale. Arrivato al primo piano la chiamai ancora una volta e senti la voce che mi rispondeva nuovamente. Sì. Arrivare dalla stanza più lontana, in fondo al corridoio. Mi sentivo inquieto e provai un forte desiderio di vedere mia madre. Quindi cominciai ad andare verso la porta della stanza. Proprio in quel momento senti aprirsi la porta principale di sotto e vedi mia madre entrare con alcune borse della spesa. tesoro sei a casa? Chiese mia madre con una voce allegra. Sentire quella voce mi fece sentire subito molto meglio. Mi voltai per scendere alle scale e tornare al piano di sotto ma prima lanciai uno sguardo alla porta in fondo al corridoio. E mentre stavo guardando questa si aprì lentamente, rivelando uno spiraglio. Per un brevissimo momento vidi qualcosa di strano nella stanza. Un volto pallido e sorridente che mi guardava. la stanza. Un volto pallido e sorridente che mi guardava.